Ma scusa, ma Giorovoss è morto, ma che cazzo è morto? Eh, cosa vogliono ancora? Ormai è andata, dovevano farlo prima tutto sto bordello. Eh, vabbè. Così sta no? Vabbè. Si è diventato questo gioco. No. Attenzione, nei gameplay di Away Out è presente in linguaggio scurrile. Nessuna delle possibili affermazioni rispecchiano le convinzioni reali del canale, le mie o quelle dei miei collaboratori. Salve ragazzi, bentornati. Continuiamo la nostra avventura su Away Out. Dobbiamo caricare il nostro aereo per partire. Ecco qui il giornale di bordo. Alla Benza, ciao a tutti. E' la Benza? Eh sì, renditi utile. Vabbè. Ah, guarda, il primo So, me ne vado. Ciao scappo Vedi, ma che ti dicevi, sei perdonato Ma come voglio tornare indietro Sì Ti preoccupi? Non. Tu? Un pochè. C'è un pochè per me concentrare, sai? C'è bene. Sì. Sai, l'ai pensato sui situazioni con tua esposa. Potrei avere una soluzione. Potrei fare tante sempre for you. Ok. De fasci Andrew, tu devi scrivere un po' 하... Beh, ne vuoi viagare, non mi voglio interferire, ma ho viare una situazione similata con Linda. Ho deciso di scrivere un po' a... e ho aveso. Ho scoperto. La scoperta tutta me la giunta, lui mi ha dato la seconda chance. Vim dire un po' che dirà, che scrivere un po' ha veramente aiutero, vim dire? Vim dire, vim dire, Stiamo arrivando ragazzi Eh siamo pronti Eh e' mo' Eh e' mo' Ok, se vedi che io mi metto Dov'è la merda Buongiorno Ma facciamo La cosa Ma non lo spero di no Guarda Sì, infatti Sì, infatti Sì, è dietro, esatto Eh, esatto Pronti, via Quanto bello Guarda come sarà ridere No, posso muovere Sì, sì, io volo E' vai e io arrivo prima, niente Ciao Guarda che figata sta parte Sì, vedi che tu sei là Tu sei là Ah, guarda, stai scendendo in chiusura No, io da Sono arrivato Sono arrivato Guarda Guarda Ma porca Eh beh, il tutorial mi sa che non è andato tanto bene Disso che anziché tirare Anziché tirare La manopola, la leva Quella che si chiama La maniglia, anziché tirare la maniglia, si lasciano Sì, il coordinino Maniglia, cazzo Bellissimo però, ragazzi Guarda che bella l'isola Non sembra neanche il messico Ok, ho zonato That's it, you broke your arm What do you mean, that's it I was eight years old That's all right Ok, I've had enough I'm letting go if you keep asking those stupid questions Haha, be my guest Just keep in mind that you break a lot more than an arm I hate you, man Eh, you don't Eh, stiamo sbagliando Annena, niente, non mal Stavano schiantando quando la scogliera Just hold on to me, ok? Amine, don't drop me Non mi lascia cadere Un metro di altezza non muore Eh, ok Vabbè, noi siamo i campioni dello stelo Sbagliando Sera facilissimo Io ho da destra Stavo faccio il mio Il mio segnale Va Stai calmo che tu sei Sempre che spariamo Certo Amanetto Sei pronto? Vai No, aspetta Ti dico io Ammo Sì, sì Tutto a caso 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 Ragazzi Non è proprio Il gioco adatto per sparare Non ho visto Gli ingegneri famosi Quelli bravi Ah, era incollato con i Vico Sì Con il cosmo Quelli che ho Quelli sono Quello è il cecchino Della prigione Ricordi quando siamo scappati Il cecchino ha perso il lavoro Ed è lui Guarda che mira Sparo vai vai che ti copaio Che botta Ragazzi Dark Souls Dark Souls Non mi prende Dark Souls Non posso andare di qua Sto sparando a mente adesso Non lo so Sto sparando Ah, c'è la porta Vai Eh, ti pareva Per quanto non mi ha preso Ah, arrivo, arrivo E' stato bravissimo E' stato bravissimo E' stato bravissimo Ma Eh, questo mi fa Però questo è per fucile Si è rotta la scala? E' niente A quanto pare A quanto pare siamo il padre di Lara Croft Dato che La prima scala che prendo Si rompe Ma scusa Ma io gli sparo in faccia A quello non muore Quanti colpi in faccia ci vogliono Per morire Questo Ah, se tu vuoi Sì, eh, sì Ancora Guardalo Questo fucile Sembra che spara Popcorn Non serve Si vede Ma no, che è volo Che si è fatto Mi hai visto Visto in diretta Sono brutto Si, si Sparo a Popcorn Questo fucile No, fai Io sparo alla gente Ma la gente non crepa Ma Mi sembra che si sparo io E' perché tu hai il fucile Il più potente Io sparo Popcorn Ma to' dietro la nuca Io ho sparato Oh, ma non lo piglio Ma che cazzo Eh, te lo dico E' morto Oh Fa finta di sparare Ma tutti E noi spariamo Popcorn In realtà Loro sparano davvero Ma noi No Eh, chissà cosa dobbiamo fare Ma questo è lo stesso furgoncino Della fattoria Si, si I tempi Guardalo La straccia L'alas All right That actually worked Brute force Always a winner Sei il fucile del nonno Vai Che fucile del nonno Vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vai 1, 2, 3 Ah, la bruna Stavolta Guarda da dove sparano questi Cosa vuole il colorato Cosa vuole, io faccio, io faccio, io vai, vai, vai Davo, bravo, bravo, spara, spara Ci sono, basta, basta Basta, basta, guarda qua Ti ho capito, capito, capito Ti è spara a questo Però, però, fammi allontanare Stavi Cendo saltare in aria Inceziamo alla porta No, 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 non ce l'abbiamo fatto Aspetta, espetta, che qua abbiamo un goccino Vai, vai, bene No, non è E' vero Via e c'è Lo prendo al quinto Esatto, lo prendo al quinto E' vero Infatti non è proprio Un gioco, uno sparatutto Vuole essere No, no, no Non spara niente Non spara niente Non spara niente Spari po' corno Ho detto Ecco 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 E' perfetto Ecco Anche se c'eravamo messi da qua Sì, sì, tu resta affacciato lì che ti sparo due mila Se stai vedendo ti sparo la mamma, stai perdendo Eh sì, anche Ma anche se ti prendo in faccia servono tre colpi, dai Io con qui la pompa insieme a voi Eh, caro Harvey, salve Spara, spara Prova a sparare adesso Che esplode anche tu Bravo, bravo, bravo Quello che era ancora vivo noi a noi non interessa più Perché no, gli ho sparato sei volte, non è morto Queste sei volte, allora Era invincibile, penso che Guarda quest'altro Niente A posto, gli sparano, bene, me ne scappo Evidente, due facce Guardalo, si siete, mo' con quella pistola d'oro Ma se te la faccio mangiare Però è coordinata anche la camicia Molto bello Sì, sì La classe, no? Vuoi affrontare tu? Affronto io? Dai, dai, affrontalo tu Eh, con la pistola d'oro Magari c'è One shot, one kill Lo prendi nel piede e muore, no? Piedata in pieno viso Di prendi nel piede e muore, non? Ti faccio? Ti faccio, hai capisco Mi più forza Mi perccio? Leo, ti faccio Guardalo! Lo credo, sei Tu uccionistra! Ti faccio? Ti faccio? Sì, guarda. Ho ancora. Questo è quello che sei qui, ok? Il diamone. È tutto il tuo. È nel segno. Oggi. Tu puoi prenderlo. Moverlo! Ok. Secondo me non dovresti stare proprio così vicino col fucile a pompa. Dacci la pietra. Guarda quante pistole d'oro c'ha quest'altro. Guardala. Ti posso sparare, eh? Vai, vai. Lì, lì, alla teca, alla teca. Vai, nel collo. Che male. Guarda che bella sta parte. Ah, tipo... Ti sa pari molto. È niente. Te la facciamo esplodere. Quella testa. Come fai a sparare ancora che ti abbiamo fatto... Ti abbiamo sparato otto colpi in testa e ancora riesci a sparare. Morto bene. Morto bene. Molto... Molto morto bene. Molto morto. Molto morto. Abbiamo bisogno. Come va. Minchia. Gli svuoti. Pompieri. Tutti stanno arrivando a... Da forestale. Completo. Moto. Macchina. Guarda. Via. Via di moto. Guarda. Salve. Salve. Mi scusi, eh? Grazie. Stanno scappando. Senti quell'altro. Guarda. Guarda quanto volo. Eh... Di che? Non ci sono proprio. Bravo, bravo. Vai, vai. Hai così. Eh sì. Guarda con quello che mi spara proprio davanti. Io me ne vado di qua. Ciao, eh. Guarda quanto... Ma... Tutti i testi qui. Esatto. Ci hanno tutti con me. Non va... Guarda lì. Guarda. Guarda. Vuo sopra la macchina. Ma come fai a spararmi se ti volo sopra? Guarda che speronamenti lì. E guarda qua. Eh... Ma scusa. Ma Giorovos è morto. Ma che cazzo... Eh... Cosa vogliono ancora? Ormai è andata. Dove uno farlo prima tutto sto bordello. Eh... Vabbè. Cosa stanno? Vabbè. Si è diventato questo gioco. Sto detto va. Se mi ammazza mi ammazza. Io... Io sono davvero... Io ho cambiato strada. Non so. Sono tornato nella giunga. Non mi spara più nessuno. M***a che esposione! Che cresce? C'è un censo. Edomos. Qui sono piedi. Sù su 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 su. Posto spara 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 su служba. io qui io qui perchè stiamo morendo lo stavo non ci colpiscono ma moriamo ma come siamo tornati chile in chi avicano è un divese ci siamo incastrati 0 9 pensi è saputo farli meglio ho appena ho appena distrutto il codice il gioco non ha capito più dove fosse ma anche noi però non capiamo più guarda qua guarda l'aereo devi guardare sotto io sto guardando sopra no no che no che l'hai fatta esplodere ma l'hai mancata sei scemo? eh no ho detto dopo prima e avevo sbattuto ma cosa stai facendo? ma io non ti piedi vai vai adesso troviamo wow ci abbiamo fatto wow c***o era vicino sei ok? sì sono bene è stato pieno di azioni voi siete stai freddi Vincent tu dovete pagare me doppia per questo ho capito ho capito ho capito non potrai me dire questo molto ho capito ma grazie tu anche Leo penso che Harvey è morto malamente è morto mal ci vediamo nel prossimo gameplay e ricordate di iscrivervi al canale youtube alle pagine social di instagram facebook e twitter da me Mazeus Enrichi Lati è tutto alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.